Ciao a tutti, benvenuti in questo live di sabato. Oggi qua a Torino piove, c'è tempaccio, o almeno. Sembra che stia per piovere. Niente, oggi volevo parlarvi un attimino di cose un pello più tecniche per quanto riguardano i costi delle ads. Recentemente ci sono stati dei cambiamenti, aspettiamo un attimino che si connetta qualcuno e poi vi spiego tutto quello che c'è da spiegare. Ok, ditemi intanto se poi si sente il microfono, se tutto funziona. Intanto io sistemo due cose ancora qui. Ok, va benissimo. Allora, come al solito parliamo di social. Io parlo di social, parlo di ads, parlo di copie, insomma, quello che è di mia competenza. e poi mi faccio due chiacchiere e sparo due minchiate con voi. Benissimo. Recentemente c'è stata una specie di saturazione dal punto di vista degli inserzionisti di Facebook. Oggi più o meno sono circa 6 milioni gli inserzionisti che fanno inserzioni su Facebook, quindi non sono un numero piccolo, e stanno sempre aumentando. Quindi cosa significa? Stiamo arrivando al cosiddetto low-add, nel senso che stiamo per saturare la capacità di Facebook di contenere inserzionisti. Quindi cosa succede nel mondo dei social? Succede che quando si satura la macchina, quindi quando la macchina è piena, aumentano i costi, perché più gente è in concorrenza per far vedere gli annunci certe persone, più costa. Quindi Facebook, anche dal momento in cui si trova la piattaforma satura, è normale che questo add-load cresca e faccia sì che il prezzo delle inserzioni aumenti. Recentemente è aumentato, non dico di poco, non so se fate inserzioni tutti, ma se fate inserzioni ve ne sarete accorti che sono aumentati i costi, oppure si sono ridotti i risultati. Questo perché? Perché sempre più gente sta investendo su Facebook. Quindi è il momento di andare online con le inserzioni, ragazzi, adesso continuate a perdere tempo, continuate a girarci intorno, i prezzi continueranno ad aumentare e questo andrà soltanto a discapito dei vostri soldi, brucerete sempre più budget per avere meno risultati. Cioè, mi spiego meglio. Nel momento in cui tu hai impostato nella maniera corretta il tuo format, hai impostato nella maniera corretta la tua soluzione per dare al tuo target, quindi hai intercettato il tuo target e hai previsto il budget che devi inserire nella tua operazione, ti sarà molto più semplice poi ottimizzare i costi, quindi anche se ci saranno aumenti da parte di Facebook del costo delle inserzioni, 43%, eh? Non poco, eh? Cioè, ragazzi, 4,3%, 43% di aumento. Questo significa che, dal punto di vista economico, se non sei bravo a ottimizzare i costi, quindi avere dei costi, risolverli più bassi, come li vuoi chiamare, cioè, bravo a ottimizzare, automaticamente subirai il costo di Facebook. Perché, pensaci bene, da cosa guadagna Facebook? Cioè, Facebook i soldi da cosa li fa? Li fa con te, che investi in sponsorizzato o te che magari è un'agenzia e lavori con i tuoi clienti, quindi i soldi dei tuoi clienti. E quindi per questo, più gente si unisce a questa cosa, più Facebook guadagna e automaticamente più aumenta i prezzi. E, cosa non da dare per scontata, oltre ad aumentare il costo, diventa più rigida nelle selezioni. Molti mi scrivono che sono stati bannati, come devono fare, Facebook non capisce, cazzi e mazzi. Logicamente non gliene frega niente a loro. Cioè, loro, più gente si tolgono che non funziona dalle palle per far entrare... Immaginate che fosse una... Facebook è una stanza, no? E gli sezionisti entrano. È ovvio che, a un certo punto, la scatola, la stanza, si riempie di persone. Quindi Facebook cosa deve fare? Deve togliere le persone che non servono a niente, che investono poco, che fanno male, insomma, che non hanno risultati alti per far entrare persone che spendono di più, hanno risultati più alti, hanno quality score migliori, sanno fare l'inserzione meglio, ottengono risultati perché le persone li seguono di più. Quindi automaticamente ci sarà questa selezione all'ingresso dove se sei già dentro e non funzioni bene verrai sbattuto fuori. Comunque, tant'è che, appunto, abbiamo avuto questo incremento del 43%, continuerà a salire. Andatevi a vedere, se vi interessa, andatevi a cercare qualche articolo in rete, sicuramente qualcuno lo trova. Comunque non è che queste cose le ho scoperte perché sono un mago, un genio. Si chiama Dave Werner ed è praticamente in italiano il direttore finanziario di Facebook che ha praticamente il CFO sarebbe apprezzente rilasciato questa intervista dove praticamente sta dicendo che prevede nei prossimi 12 mesi un aumento assoluto dell'odiload. Quindi è così, ragazzi. Prima o poi ci sbatteranno tutti fuori e chi fa bene sarà dentro e chi fa male ovviamente sarà fuori con me, ovviamente, fuori. Bene, qualcuno mi chiedeva dove sono finiti i commenti di ieri ragazzi, i haters sono dei cagacoglioni. È successo che ieri una persona mi ha accusato di dare contenuti scontati e già sentiti e troppo semplici. Ragazzi, che cazzo, non mi rompete i coglioni. È normale che se do delle informazioni sono anche informazioni base. Perché invece di rompere i coglioni non compri il corso e ti vai a prendere le informazioni avanzate? No. Questa gente qua che è recidiva cosa fa? Va a romper i coglioni nelle ads degli altri e quindi ci troviamo dal dover rispondere a questa gente. In realtà non vorrei rispondergli. Cioè, mi piace proprio lasciarli parlare, bannarli, cancellare, via. Però ogni tanto qualche risposta gliela do. Poi, questa persona alla fine si è cancellata anche da sola. Praticamente rompere i coglioni. argomenti triti e ritriti. Ma perché lui ha già letto su un libro? Ma che cazzo dice? Come cazzo fai ad aver letto su un libro quello che io ti dico che è stato detto ieri? Vabbè. Comunque. È normale. Anzi, più ce ne sono vuol dire che meglio è. Quindi vuol dire che stai facendo un buon lavoro. Si dice che più gente fa incazzare è meglio stai lavorando. Io di gente ne faccio incazzare parecchia. parecchia gente meriterebbe anche qualche schiaffo però cosa dobbiamo fare? La legge me lo impedisce quindi stiamo qua. Va bene ragazzi niente oggi volevo parlarvi di questo e accattatevi il corso gratuito se non lo avete ancora fatto smettila di fare le ads e poi dopo seguite il funnel e compratevi il mio corso il mio corso bellissimo le ads non servono un razzo questo orario di sabato è un po' stupido alle 13 c'è poca gente poca interazione va bene ma non importa non importa testiamo testiamo adesso ho in mente qua lo dico l'annuncio ok l'annuncio per primo vediamo se poi qualcuno ha il coraggio di dire che io faccio quello che fanno gli altri ho in mente di fare qualche live la sera ok così come una chiacchierata come sto facendo adesso anche perché l'altro target che seguo che sono i dentisti sono più comodi quindi lo dico qui la data ce l'abbiamo tutti oggi cos'è sabato 7 aprile 13.08 ok lo dico lo faccio la sera va bene ok dai torno alle mie mansioni che c'è un botto di roba da fare come vedete là dietro il la lavagna la lavagna scotta e c'ho corsi da fare preparare fare promo fare l'ending page preparare copie seguire clienti insomma ragazzi oggi è una giornataccia va bene buon lavoro a tutti quanti e ci vediamo alla prossima live ciao ciao ciao